In questo capitolo ci spostiamo verso sud-est rispetto all'Europa del Nord che abbiamo trattato nel precedente capitolo e andiamo a conoscere i paesi dell'Europa Centro-Orientale. Come di consueto andiamo a guardare la cartina della macro-regione e a cercare di trovare i punti in comune tra questi paesi. I paesi che compongono il blocco dell'Europa Centro-Orientale sono la Polonia, la Slovacchia, la Romania, l'Ungheria, la Repubblica Ceca e la Bulgaria. In questi territori troviamo una grande varietà ambientale, si va dalle steppe dell'Ungheria alle catene montuose della Romania, alle foreste della Repubblica Ceca e della Polonia, alle paludi sul Mar Baltico nel canale di Danzica e alle colline del sud della Polonia. Una cosa hanno in comune questi paesi, il clima, il clima continentale. Quasi tutti questi paesi, o meglio tre dei sei paesi che compongono l'Europa Centro-Orientale, non hanno sbocchi a mare, quindi non hanno l'influenza del mare che mitica il loro clima. E quelli che sboccano sul mare, come la Romania, la Bulgaria e la Polonia, sboccano su dei mari chiusi e per un piccolo tratto dei loro confini, quindi non è sufficiente questo a intervenire sul clima. Quindi hanno tutti un clima continentale. Di questa zona di Europa faceva parte l'area forestale più estesa di Europa e ancora ce n'è qualche rimanenza, che però è stata deturpata, è stata abbattuta per far posto alle attività umane. In questi paesi troviamo una verità di lingue, abbiamo lingue di origine slave, come il polacco, lo slovacco, il cieco e il bulgaro, una lingua di origine latina o romanza, come il romeno, e una lingua di origine ugrofinica, cioè del centro Asia, come l'Ungheria. E troviamo anche diverse etnie, troviamo paesi cattolici e ortodossi, cattolici Polonia, Ungheria e Slovacchia, ortodossi Romania e Bulgaria, ma anche etnie Rom, etnie Sinti, etnia Magiara, che sono gli antichi popoli nomadi che avevano occupato l'Europa intorno all'anno 1000. Questi paesi sono tutti soggetti a una forte emigrazione e a un calo demografico, nonché a un invecchiamento della popolazione. Un altro punto in comune fra tutti questi paesi è che dal 1945 al 1990 sono stati soggetti all'influenza esercitata dal gigante che avevano le spalle, e cioè l'Unione Sovietica. Vedremo quanto questo inciderà sulla sua popolazione, sulle sue usanze e soprattutto sulla loro economia. Partiamo dalla Polonia, vedete la Polonia, già guardando la cartina si riesce a capire la natura del suo territorio. Abbiamo una parte settenzionale pianeggiante, vedete tutta verde, nella parte meridionale diventa un po' gialla, con qualche puntino marrone nella parte estremamente meridionale, quindi collina e modeste alture che non arrivano ai 2000 metri. Le catene montuose più importanti sono i suddeti, che sono il confine naturale con la Repubblica Ceca, e i carpazzi occidentali, confine naturale con la Slovacchia e l'Ucraina. Quali sono i confini? A nord è bagnata dal Mar Baltico e confina con Russia e Lituania. A est confina con Lituania, Bielorussia e Ucraina. A sud confina con Slovacchia e Repubblica Ceca. A ovest confina con la Germania. I fiumi più importanti sono la Vistola, che attraversa la Polonia più o meno centralmente, da sud verso nord per sfociare nel Mar Baltico, e attraversa anche la capitale Varsavia, e l'Oder, che abbiamo visto che il confine naturale con la Germania. Clima continentale, soprattutto al centro al sud, in alcune regioni della parte settenzionale, ci sono ancora alcuni afflussi benefici che provengono dal mare, con un clima più di tipo oceanico, quindi più umido e con temperature vinti. Passiamo adesso ai problemi della popolazione in Polonia. Vedete questo grafico? Questo grafico si chiama Piramide dell'età. Per essere bilanciato dovrebbe avere proprio una forma di una piramide. Invece, vedete la base di questa piramide, cioè l'età tra 0 e 4 anni, quanto è stretta. Questo vuol dire che in Polonia c'è un forte calo della natalità. Vedete, 1,3 figli per donna. Se aggiungiamo a questo i forti movimenti migratori in uscita, cioè i polacchi che sono emigrati dalla fine del XX secolo fino all'inizio del 2000, il calcolo è presto fatto. Vedete, questa piramide è stretta alla base, poi si allarga un po'. Poi, quando i polacchi arrivano in età lavorativa e non trovano lavoro nel loro paese, la piramide si restringe di nuovo, per allargarsi di nuovo nell'età anziane. Quindi questa è una piramide dell'età sbilanciata, è un problema molto comune a questi paesi. Infatti, stiamo attenti a fare le distinzioni tra un paese e l'altro, perché sono dei paesi con dei problemi molto simili. La lingua ufficiale è il polacco, che è una lingua slava, di origine slava, ma è scritta in caratteri latini, a differenza di altre lingue che sono scritte in caratteri cirillici, poi lo vedremo in seguito. Per il 90%, questo è un dato molto importante, la popolazione polacca è una popolazione cattolica. Uno dei più grandi papi della storia, Giovanni Paolo II, è nato a Cracovia, in Polonia. Questo ha permesso ai polacchi di prendere il coraggio per combattere il regime comunista. Quindi il fatto che l'orientamento cattolico appartenga al 90% della popolazione polacca è un dato molto significativo. Inoltre, la popolazione cala, i polacchi emigrano, e questo gruppo di paesi capeggiati dal leader ungherese Orbán si sono riuniti nel gruppo di Visegrad, in cui si sono messi d'accordo nel non accettare gli immigrati che arrivano dall'Asia e dall'Africa. Nonostante l'Europa, stanzi dei fondi, dia dei soldi a questi paesi per accettare gli immigrati, hanno addirittura costruito delle barriere di filo spinato per non far passare i migranti, senza comprendere che la migrazione, nel caso di calo demografico, è una risorsa più che una cosa che deve spaventare. Quindi, per riequilibrare il saldo demografico e sopperire alla scarsità di mano d'opera, bisognerebbe, aiutare la popolazione che sta invecchiando, bisognerebbe accettare gli immigrati piuttosto che respingerli. Quindi, vediamo già un primo grosso problema che ha questa popolazione, una popolazione che invecchia, diminuisce e non accetta gli immigrati. Per quanto riguarda l'economia, l'economia della Polonia è abbastanza ricca, perché il suo sottosuolo è ricco di minerali di ferro e di carbone, ma inoltre ha una disponibilità di mano d'opera a basso costo, gli operai polacchi costano molto poco, non a caso le multinazionali come la Fiat hanno delocalizzato alcune fabbriche in Polonia, ormai la Panda e la Nuova 500 si producono solo in Polonia, perché la Fiat ci guadagna perché paga di meno gli operai e può vendere le sue macchine con un guadagno maggiore, ma gli operai polacchi non se la passano benissimo, quindi anche se c'è molto lavoro, ci sono molte attività estrattive e una grande industria siderurgica, il benessere non è diffuso, perché gli strati più bassi della popolazione non se la passano benissimo, inoltre la Polonia punta tutto sul carbone perché ha enormi giacimenti di carbone, però in questo modo non rispetta le regole sull'inquinamento dettate dall'Unione Europea, quindi vedete che anche dal punto di vista dell'economia la Polonia nonostante sia un paese potenzialmente molto ricco, sfrutta in maniera antiquata e pericolosa le sue risorse, quindi anche qui c'è qualche passo in avanti da fare. Per quanto riguarda il settore terziario, è in crescita il settore del turismo e delle telecomunicazioni. Passiamo adesso alla Repubblica Ceca, uno dei paesi messo meglio di questo gruppo di paesi, lo vedremo quando vedremo l'economia. Il suo territorio, come vedete, è prevalentemente montuoso, anche se i monti sono tutti di scarsa altezza, non arrivano a 2000 metri. Confina a nord con Germania e Polonia, a est con Polonia e Slovacchia, a ovest con la Germania e a sud con Austria e Slovacchia. È divisa in due grandi regioni, la Bohemia a ovest e la Moravia a est. Un territorio, abbiamo detto, prevalentemente montuoso, con due grandi pianure in corrispondenza di grandi fiumi, e cioè la pianura Boema, solcata dai fiumi Elba e Moldava, e la pianura di Moravia, nel sud-est del paese. Il resto del territorio è montuoso, i monti più alti si trovano al confine con la Polonia, i Sudeti, e con la Germania, i monti metallifari, e la selva Boema. Il clima è pienamente continentale perché la Repubblica Ceca non ha sbocchi sul mare. La popolazione. La popolazione, a differenza degli altri paesi di questo gruppo, è in leggera crescita perché, nonostante il tasso di fertilità, l'indice di fertilità si è a basso, 1,45 bambini per donna, il saldo migratorio è positivo. Ci sono degli immigrati, ma questi immigrati arrivano dai paesi circostanti, visto che, come vedete da questo grafico, l'economia della Repubblica Ceca è notevolmente superiore agli altri paesi di questo gruppo. L'etnia, infatti, risulta composta da diversi gruppi etnici. Per il 64% sono cechi, poi ci sono slovacchi, moravi, russi, tedeschi, vietnamiti, polacchi, ucraini, slesiani e magiari, che sono due popolazioni nomadi. Quindi il 65% di etnia ceca e il restante 35% di diverse etnie. Per quanto riguarda l'economia, è il paese più ricco dell'Europa Centro-Orientale. Sono sviluppate le colture foraggere, cioè quelle che servono per cibare l'allevamento. Infatti è molto sviluppato l'allevamento bovino. Il sottosuolo è ricco di carbone e duranio. Molte centrali nucleari, infatti, ci sono nella Repubblica Ceca. Molto bene l'industria automobilistica. Infatti la Repubblica Ceca ha un marchio autonomo di automobili, la Skoda, e è molto avanzata l'industria farmaceutica. Buone le infrastrutture, a differenza degli altri paesi, cioè aeroporti, autostrade e ferrovie, è in avanzata il compartimento dei software e del high tech. Molto attivo, molto redditizio, il turismo culturale. Praga, la capitale della Repubblica Ceca, è una delle città più visitate di Europa. Passiamo, infine, alla Slovacchia, che fino a qualche anno fa, fino a metà degli anni 90, insieme alla Repubblica Ceca, formava un unico paese, la Cecoslovacchia. Poi c'è stato un referendum che ha diviso i due paesi. Per il 70% è occupata dei Monti Carpazzi, nel restante 30% abbiamo la pianura pannonica, sia a est, sia a ovest. I fiumi più importanti sono il Danubio, che attraversa anche la capitale Bratislava, e il va affluente del Danubio. Il clima, anche qui, è continentale, è molto piovoso. Tipico clima del centro Europa. Infatti anche la Slovacchia non ha sbocchi a mare. Confina a nord con la Repubblica Ceca e la Polonia, a est con l'Ucraina, a sud con l'Ungheria e a ovest con l'Austria. La popolazione, la natalità e la fertilità sono basse. Vedete anche qui la piramide dell'età è molto simile a quella della Polonia. Circa il 70% degli slovacchi sono cattolici, l'11% sono protestanti, il resto sono atei. La lingua più diffusa è lo slovacco, ma l'11% della popolazione parla l'ungherese. Nell'economia va molto bene l'agricoltura, il settore trainante e l'allevamento dei bovini e dei suini, anche se risulta poco meccanizzato e poco moderno. Il basso costo della manodopera, anche qui, ha provocato il fenomeno della delocalizzazione dei grandi marchi automobilistici, come la Volkswagen, la Peugeot e la Hyundai coreana. Immaginate che se le stesse industrie occidentali che impiantano le loro fabbriche in questi paesi lasciassero liberi gli slovacchi di avere un'industria autonoma, questo paese sarebbe indubbiamente più ricco. Invece si deve accontentare della, tra virgolette, elemosina fatta dagli occidentali. Tant'è la voglia di lavorare di questo popolo che si accontenta di essere pagato meno degli operai occidentali pur di avere un lavoro. Quindi vedete che spesso le superpotenze occidentali, come la Germania e la Francia, speculano sul bisogno di lavorare di alcune popolazioni. Molto bene anche qui il turismo culturale. Bratislava è una delle più antiche città d'Europa. Con questa slide si conclude il primo gruppo dei paesi dell'area centro-orientale. Ci vediamo alla prossima lezione. In questo caso vedete che non ci sono tutti quei dati che avevamo negli altri paesi che erano paesi sviluppati. In questi paesi in via di sviluppo ci concentriamo più a capire i problemi riguardanti la popolazione, l'economia e la storia di questi paesi piuttosto che andare a snocciolare una serie di dati che lasciano il tempo che trovano.